Euro, mercati e democrazia 2014, l'Italia può farcela. Mi pare che la discussione utilmente, più che concentrarsi, c'è un tema importante, sull'euro, si è concentrato come si deve sull'Europa. Qual è l'Europa in cui siamo inseriti? Perché che siamo inseriti è del tutto evidente. La mia opinione in questo dibattito così interessante è che non si cava scalando un livello. Perché in realtà l'Europa è fatta dai governi europei e i governi europei fanno sostanzialmente tutti la stessa politica con un privilegio della Germania, ma interni a questa costruzione che è una oligarchia europea che persegue una politica economica e sociale legata all'idea della conquista della competitività, comprimendo i diritti dei lavoratori e delle popolazioni. Quindi la discussione è proprio di fondo. Che civiltà europea vogliamo? Ed è per questo che mettere insieme opinioni così diverse, presenze così diverse su un fondo che è di dibattito anche e fondamentalmente sulle politiche economiche di grande utilità.